Musica 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 Posso andare io a Greasy da solo? Ah? A Greasy Dobbiamo fare tante kill, ci splittiamo in due Ognuno in un posto, ognuno in un posto Ognuno in un posto Io sono in crisi d'assinenza per Greasy Io vado anarchiagras Ssss Anarchiagra vado soldi Stava difficile eh No ma... Io non ci faccio vedere la Tilted Quattro soldi in padale Madonna mia Quanto fa il Tilted Bellissima ragazzi Tilted Come ho fatto quella a morire è cascato di sotto Lo... Ma io sono da solo Pure io Ma che schifo No io no Proprio per un cazzo Ah no No merda Io a me ne ho due team Silenzio per il secondo Cioè a me stanno per pushare in quattro Beh è più cari di seggiare il cazzo Adesso ti vuole Solo che bussa un po' di cacciata Poi ci rivediamo a Tilted Capito Boh dai Sì c'ho solo un problema I tizi che ho con me sanno giocare tutti Sanno giocare? Sanno giocare tutti Sanno usare la tastiera mi sto dicendo Ah esattissimo Sono tutti e quattro che build Quindi sanno usare la tastiera ma il mouse? Sì Sanno fare la combo Cazzo Eh da me c'è un bel po' di cento Grazie Ma nessuno è andato a Tilted Aspetta No Il giallo non sta mandando a Tilted No Io ho detto vado a Anarchiagras Cosa raga Da me qua non si capa Becca 66 Fagli infame finisci gliene una e te ne vai Vedi giusto per aizzarli Sì Sì eh, mi so che io ti raggiungo il crano molto mi hanno bruciato i pink 5, non puoi fare una sega cioè, erano dei primi che mi bruciavano i pink ma sono materiali più morti però no, però non mi bruciano, non so perchè cioè, penso che lo sanno che sono andato qui non lo so se mi fino ancora stremo a caso, come sempre venga pleasant, non c'ho un cazzo da fare io c'ho un bel po' di gente c'ho un bel po' di gente ma te sei a zero kill, non mi interna a sto però vuoi vedere? io, io pure ho fatto tantissime ma voi siete ancora entrati a zero kill ma che stosa non li ho poi dato non c'era nessuno qua ho preso la depressione a me ah, è finito i materiali ci sono rettimi diversi qua, Joe da dove non si riesco a parlare cosa no, raga no, sono morti quindi è tutto su se guardare hobbit ora sì, mi stavo guardando con una morte steve ok ok ma è noccato un team che non c'entra niente qua io non so come mi sono salvato da sta cosa c'è un pro cioè o meglio quello contro di te è un coglione senza culo shhh e vi sto correndo da te eh che cazzo mi è arrivato hobbit guardami no, non c'è più maz è solo una cosa quant' aggetto c'è lì? da me? nella mia casa 4 tutti schienati da arrivo arrivo si deve salire se è un god non riesco a salvarlo è questo il problema merda ci ho provato mate vai tra vai tra cioè ho fatto pure il jump pad per venire più velocemente mi dispiace che palle la vita ho cioè ho fatto il jump pad ho creato cose eh non sono riuscito a salvarti mamma mia che palle ho grazie Andre vai l'ho fatti tutti alla fine arrivo bet ah si cheat ma che poi manco uno che si è collegato cioè mi ha noccato col cecco non sapevo manco che esiste no andiamo mirando in alto quindi io c'ho due jump pad sai mi? dai fai sto stairway to heaven vai vai fai sto stairway to heaven ma mi dispiace veramente un botto perché sto arrivato a tromba se mi moriva subito il primo ti salvavo allora che sono arrivato tipo a 200 all'ora porco giù da lì dentro ho fatto perde tempo il primo ah l'importante dei fatti però c'ho giù da sto non mi cecchinava ora voglio provare sta mitraglietta tattica anche se non so perché la chiamate in italiano così ragazzi mi viene mi sanguina l'orecchio destro oh dio e che cosa mi sto muovendo a fai vabbè vengo verso team da me a quattro persone fuck ma è il momento di fare il jump pad lo dico no ma più che altro sono in culo al mondo quindi possibilmente lo tiro perché sono in culo al mondo riesce a venire da me? ehhh si non mi muovo allora? aspetta che ma lontano da ste belve ce l'ho proprio qua qua dietro che mi stanno cesando così con un culo vai a terra vai verso vai verso tilted Joe dentro tilted ci vediamo? ehhh no alla cascata di tilted sono già qui più o meno ok quelli la che stavano cesando me si stanno si stanno fightando tra di loro si vabbè ma niente lascio stare ormai uniamoci e poi dopo gli andiamo più via intanto devono venire qua cioè dovranno venire da noi perciò va bene così sembra una persona è sopra di te nardovest ah no c'è lei dietro 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 lo so arrivo aspetta che sto cercando di chiudermi down 1 spiegatemela 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 3 headshot vetti a prendere qua qualcosa per favore ti do un po' le pozzette io c'ho un medikit se lo puoi portare eh lo utilizzo diretto qua c'è un pozzone grande ora me lo tiro se c'hai dei rocket poi li prendo vieni qua c'ho i pozzette le vuoi io? eh sì sì butta anche le pozzette qua c'è i rocket prenditi queste qua c'è il med poi se switchavi era meno rischi i power eh ho capito l'ho trastato io il pompa io lo trasto per quanto ho sbagliato a costruire volevo fare la scala al contrario ma non riuscivo a fare la scala così sotto di me stavo tiltando in quel momento infatti mi sono fatto un muro a sinistra perché ho visto un cazzato ho visto quello un cazzato infatti l'ho buttato sotto però ogni tanto ci pensi dietro ti dico già che dovremmo avere un team eh? mi piace mi piace da dietro però quando sono io a prenderli dietro eh in safe in safe non prende danno ma qualcosa la prendo però frega cazzo bravo bravo no no bravo ho sbagliato le armi no? non mi dire che c'è uno lì sopra lì c'è il mio jump ad allora se non vediamo player noccati dalla storm ce li abbiamo qua dietro praticamente da dove siamo arrivati noi adesso per forza vedo nessuno ok ok noccati dalla storm due player post dov'è? ho sentito un arrow è trovati 2,94 perchè non si sentono i colpi quando sparano? non lo so che cazzo ha? che cazzo ha? oh stanno sparando e non si sentono i colpi si vedono i flash, le luci e le cose ma niente non ho capito bene dove ma mi ha intanto uno meno 100 meno 101 sono due coglioni eh te lo dico già adesso vieni in città vieni in città vieni in città ah l'ho visto ora l'ho visti ma sono solo 2 sono 4 sono 4 ci sono altri che si stanno spostando ok 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 adesso li vado down 1 ehm c'ero quasi vogliamo pusharli son 3 si 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 vieni scegli il tipo se riesce ehm vorrei appunto finciargli lo riesco io no what? mannaggia l'Uceppino blu No, ci sto cercando di non farlo restare Sembrando per sé No, cado Aspetta, io ho ritrittato col jump Ah, belli sti colpi Eh, ci sono, per modo di dire Cazzo di video Ho messo due hit bianco Sta bianco una con la skin di base La fine con la skin di base E dove è l'altro il problema? L'altro era andato a restare il primo No, sto regaricando Tutti i sensi down Morto? No, ma c'è ancora uno No, no, c'è ancora, c'è ancora Un altro di un altro team Down, manca l'ultimo Lo vedo, è sud, sud Ah no, è un altro team Sto due C'è una con le minicanne al campo Adesso il mio jump pad Uno è qua davanti a me Uno è noccato, l'altro è qua davanti a me Dentro la nebbia, forse C'è, andavanti a me Fatto? Allora, luttiamo questi E andiamo a prendere quel cinese Ma ce n'era uno che ci aveva il cazzo di scar E l'ho perso di vista 2v2, regà Eh, però non sono delle buone Eh, no, 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 uno è solo È il cinese di questo team che si è salvato E so anche dov'è È andato alle case di 30 Vediamo un secondo Vai, vai, vai C'era dei colpi per il lancio razzi? Eh, no Ti ho sparato? Non io? Lo vedo, sopra No, what? No, fra, ha sparato a me, ha flashato What the fuck? Ok Hai razzi? No, vero? Hai detto? No, no Eh, ho visto billare 345 Uno è là Allora, una era con la skin del cinese Quella di base E l'altro Penso sia quello Dov'è Air China? Air China era a 60 Dove siamo adesso? A 60 Air China Ma lo paddiamo sto coglione dentro il fortino? Se c'è il pad, sì Qua lo puoi fare se vuoi, eh Qua c'è già una scala Vieni qua senza che rischiamo Dai, dai Dai, dai Ok, niente Fermo scudi, no Vai, chi taglia sto pad? Eh, dai Yeah Anti-sgamo Non c'è È qua È qua sotto Mi ha fatto tenerezza Salta Mica, è proprio sveglio Salta, salta Andiamo a prendere l'altro dentro la città Ma sì, ma manco lo prendo la cura Dai, andiamo Oh, non scoop Questo lo finiamo, non scoop Resixti pure se vuoi Oh, come vuoi tu Anche da 70 A 20 Eh, 720 è un attimo difficile Aspetta che deve allungare il mousepad C'è, devi alzare la sense Ma facciamo una cosa, Fanny Mettiamo la sense al massimo E spinnando come delle merda Cerchiamo di torno Non lo prenderò mai Però se succede che fai? Eh, se succede urlo Si fa o non si fa? Il 360 lo tento però Salto per vedere meglio Sai qual è il problema? Che io ho la slow sense Per fare un 360 Devo ammazzare il got Ma secondo me è là davanti a noi C'è quel fortino di metà È qua, l'ultima volta È qui, qui, qui dentro Arrivo Sta proprio qui Davanti a me Con la mini Oh, 360 L'ho finito il 360 io Aspetta che vado alla live Ti ho ammazzato normale Oddio, gli ho fatto il 360 Però l'ho preso il body Eh, vabbè 360 quickscope Davvero fades Clean Non so come si chiama sta roba strana Però il 360 se l'è preso tutto And then the Woo! 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 Grazie a tutti.